Te finirà la mia vita? Perché tu sai quanto sei importante per me. Avresti potuto dirmelo tu stessa, che hai trovato qualcun altro. Invece mi è giunta la voce che non saresti stata mia ancora a lungo. Ed ora sto impazzendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.